Intanto facciamo davvero un applauso agli aghi di Pino che ci hanno aiutato con i loro waltzer davvero è la prima volta che il liscio e il waltzer entram in questo posto si vede che Doné 2.0 è partita bene Speriamo che vincano il bando E adesso andiamo fuori dai coglioni davvero E vabbè ATB Pronti? Cantate voi Stradità sciate 3 ore per andare all'Oriocenter Senti i commerciali affollati Prendi la TV C'è sempre il bordello Sulla TV C'è sempre il bordello Sulla TV E c'è fuzza di merda Tira C'è sempre il bordello 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 Grazie da vero, grazie da vero. Noi siamo i Cornoltis, viva la merda! E quella macchina è diventata, la macchina è diventata. E sotto su un cruscotto, salita il terzo piano, con il rosario in mano. Perché? 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 Grazie a tutti.